Musica 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 Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio sulla nostra serie di Naruto Ultimate Ninja Summer Revolution Io sono Shanero e la mia compagnia c'è Alcarin woooooo Alcarin ha vinto anche il secondo episodio signori e anche il primo Oh è anche il primo Ah Alla fine cioè Shanero senza che registriamo vince sempre però quando dobbiamo fare l'episodio ovviamente vince Alcarin E' un mazzo scassato E cominciamo comunque Ah Naruto Dai Il finto contro l'originale Chi sarà il migliore E' ovvio che è il finto Perché? E' il finto proprio che fa il culo Ah Perché lo so sarei io il finto Oh mamma mia Guarda Di chiara così mi rompe proprio la difesa Vabbè ma tu che non riesci a gestirla Eh Siiii Eeeeh no Mannaggia Non funziona No mannaggia E' la cazzo Oh mio dio Nooo L'ho perso tutte le bombe per sta cagata E' buono Che coglione Buono buono Fai buono Ma nooo Fai nero fai buono Giochi buoni No no sto giocando una chiavica proprio Giochi buonito Giochi buonito Giochi buono schifo Ma che cazzo No ma ho visto un impedito ragazzi Credetemi è un gioco molto meglio di così Ma molto Molto meglio di così Da una diecimille Madonna ragazzi E' già senza tutti Ma è vero che non ho un shock E' compenso E' Ok Guarda Com'è E' tutti i gremi su shock E' Io c'è Io ho preso il tuo Tu e' Si tu Eh Shot Quale è il problema Dimmi qual è il problema Quale è il problema Dimmi qual è il problema Dimmi qual è il problema Dimmi qual è il problema Ok ok Che succede Che sta succedendo Alcarin Non mi capire i tuoi bisogni Non mi capire i tuoi bisogni Alcarin I tuoi bisogni Devono essere trattati Come devono essere trattati Alcarin Oh 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 Infatti non lo so perchè Non lo so perchè Non lo so perchè Io non lo so perchè Ok Bene grazie Alcarin Grazie Io non lo so perchè Bene signori Ogni tanto così Alcarin Ci dà i nostri aiuti Così 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 Disinvolto Ok Bene Si apri Perfetto Vabbè Adesso Una di tre Su 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 Niente Niente Boom Oddio Eh Ovviamente Vediamo il peggio Ovviamente Noi siamo i peggiori Facciamo i peggiori Molto bene ragazzi Sì 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 Oddio Che Oddio Oddio Che 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 succede Lo so beh L'importante è che E' senza Cosa Così No L'importante è che Sean Nero spinge poi Poi che Alcani faccia i cazzi suoi Così A te disinvolta Non è un problema Vabbè Diciamo Diciamo che avresti voluto Alcari Diciamo che avresti voluto Allora Parliamo delle combo di Madara Alcari Come ti piacciono le combo di Madara eh Eh Sono succulente Sono coccolose Sono avvincenti Come sono Alcari Come sono Mi raccontami Delle interessità Alcari Ma mi lasci parlare perlomeno Dimmelo Così ne dico com'è Dimmelo Dimmelo Sai che stavo pensando anche questo Io lo stavo pensando Che? Che? E non c'è visto più niente perchè Sarà Sarà il più bello Dun dun Ah ok Ok Vai 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 Surprise Motherfucker Sì Sì L'ho preso Signori L'ho preso E chi lo vince quest'episodio E chi lo vince con due vittori di fila Eh no C'è arrivato C'è arrivato C'è arrivato C'è arrivato C'è arrivato C'è arrivato Sono arrivato Totalmente contento che sono arrivato Vabbè Rai S'è arrivato È arrivato E' più Ragazzi E' più noi cercheremo di fare più avvisuti possibili si fa nel conteggio di quante partite abbiamo vinto perché perché così mamma mia mamma mia chaneros molto motivato e motivatissimo però io ti faccio ora la scoperta è la vita e sono le cose della vita capito quelle quali sono le cose della vita questo io faccio così e poi faccio così volevo volevo avrei voluto farla nooo e lo fa perchè ho perso tempo con l'animazione fiera vabbè ragazzi almeno anche se ha perso alcalde in questa battaglia e questa quest'episodio ha avuto il contentino di vincere in ultima, dai su, molto bene ragazzi, noi vi salutiamo, noi vi salutiamo, perché siamo i più sexy, e perché siamo i più fieri, perché siamo i più belli dei quattro, e se mi è piaciuto il video, fate like, fate tutte le cose belle, noi siamo i migliori, perché voi vi dovete iscrivere, no voi vi dovete iscrivere, cioè non è che è la possibilità che vi iscrivete, voi vi iscrivete, quindi una prossima, ciao!